con i c u a minasana ben ritrovati qui nel mio canale sono come sempre giappo gamer e come potete ben vedere siamo qui tornati su need for speed per playstation 4 allora vediamo un po il da fare allora messaggi robin vediamo un po ripeti messaggio perché mi ricordo una ceppa ma chi è fish bene vediamo un po mostra posizione mappa tutti per uno certo uno per tutti derapa lungo il percorso attraverso in un gruppo di auto derava il più vicino possibile ad altri eccetera eccetera tutti per uno ma vabbè proviamoci va passore nel garage con tuniche e modifiche divertente quanto guidare ma se ti diverti così vuoi più cavalli aumenta la tua rap per sbloccare i cambi migliori giustamente allora tutti per uno batti punti dentro guardo con robin ma se lo dici te e non tamponare però cavolo aio ma se vado prima io avanti così bene bene 43.000 3.500 dai che vi sento vi sento 6.800 aglio 7.000 dai robin capirai arrivare a 43.000 acci tua che botta 7.279 vai avanti va 9.400 mi sa che questa volta non lo passo eh c'ho sta bug impressione prima di arrivare a 43.000 2.457 11.000 dove state cavolo sto tassinaro eh tassinaro e toy di su eh 11.597 11.597 ecco li laggiù 16.308 eh no questo è bello difficile eh eh no punteggio ragguardo 43.000 quella quella era distruzione indiscriminata già 6.778 punti di reputazione un po' pochini va bene comunque buoni per aumentare ovviamente sempre il livello che siamo arrivati al 38esimo allora eh vabbè mentre invece volevo fare una gara di Eddie ecco questa me l'avevo proprio segnata andiamocela a fare subito va installa le gomme adeguate al tuo asset vedrai che differenza guida bene con arte se vuoi dominare la gincana attacco a tempo via vai cittadino bene ecco come al solito vi sta sempre la polizia mazza che botta subito eh grazie cara macchina già sfondata allora attacco a tempo vediamo un po' ci siamo andati a vicino parecchie volte vai così vai così orca miseria magari lì un po' meglio e curva cavolo allora 43 e 15 eccola la porca miseria infrosciata pazzesca aiai ecco la pula che strazio sta pula dai pula su vai così ok la pula è andata benissimo allora sono ancora primo con 43 e 15 tra l'altro beh eccola là quello ci ha superato liscio superiamolo va vai così ottima oh stavolta abbiamo presa bene la curva bene così ok eccola ci siamo proprio sfondati appena detto ok sono un attimo emozionato ma va bene così 39 e 57 ottimo così andiamo a dar fastidio un po' agli altri va dagli eccola pula oppela tudor vieni qua vabbè tudor sei terzo su i oh cavolo mancano 13 secondi al momento siamo ancora primi vai così vai così vai così benissimo così yatta yatta primi con 39 secondi e 58 centesimi 12.500 punti di rotazione bene se fuori scala amico rispetto anzi più che punti di rotazione sono soldi sono 51.856 punti di rotazione avevo preso punti un po' dappertutto benissimo così bene 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 ecco i melissa eh no ciao cara la prossima gara è vicina la prossima gara è vicina e sta esattamente qua evasione derapa ad alta velocità con angolazione estrema e chi ha punteggio più alto vince che palle sti derapate eeeh vabbè poi magari ce la faremo in un'altra puntata vediamo un po' però sti derapate c'era ancora questo qua non turnabile media ancora da fare tra le altre cose facciamo ce la vada pericchio che non tentiamo qui col drifting vediamo un po' livello di difficoltà medio per questo non turnabile vediamo un po' vinci i eventi derapata con manu vabbè si sapevo che non mi avresti fatto aspettare preparati veramente da un po' che non ci vediamo 30.000 il bersaglio 1.3 1.6 5.2 6.3 vai manu passa pure va 10.572 cao ti sei schiantato mortacci tua e togiti su baca 12.674 15.000 manu ci ha appena superato ma va bene uguale 19.398 eh 19.398 1250 denari siamo sotto di 11.000 questa va ancora provata vabbè poi la proveremo un'altra volta fallimento fallimento 30.000 con 12 checkpoint insomma inizia ad essere bella tecnica allora vediamo un po' cosa offre la città allora vediamo un po' di qua allora di qua ci abbiamo eh ancora è derapata ma pure questa qua è difficile qua su che ci abbiamo giro di vite medio poi poi ci abbiamo qua su tutti per uno vabbè ok già fatta poi qua nella zona di Franklin Terrace abbiamo 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 a Magnus dov'ero piacere questa da poco non la proviamo vediamo un po' va andiamo un po' da Magnus nostro amico Magnus senti valla fuori a vedere cosa ti piace ci sto andando sfida qualunque pilota quando vuoi eccetera eccetera gara sprint vediamo un po' dov'ero piacere questa da poco non la proviamo vince gara sprint contro Magnus vediamo un po' va scopri tu il percorso se vediamo al traguardo ghiaccia a tavoletta togli di Magnus cavolo cavolo per le derapate dobbiamo ancora migliorare per il drifting vai così 27 checkpoint e dai tutta la fiancata cavolo ho appena riparto la macchina nuova ma sto Magnus non si infrocia mai ecco la giu però va dai che lo riprendiamo coraggio giappo coraggio giappo eccolo la Magnus non è tanto distante liscio eccolo lisciata la grande sono le curve che sono un po' un casino perché su rettilineo ce la caviamo non è tanto che 10 checkpoint, eh Vai così E toy di Magnus, maledetto Oh Mamma mia, questi pazzi che Che stanno dall'altra parte, è incredibile Un altro ho lisciato Me lo fanno apposta a vedermi addosso Tacci vostri Mi guardate sulla mappa, eh Tacci vostri Sii, yatta, yatta Primo, 3 minuti e 21 Bene così, abbiamo battuto Magnus Bene, bene, ottimo così Un uomo, un disastro e ancora un lampino attaccato Zio, va bene, ma chi se ne frega Abbiamo battuto Magnus e stiamo andando Verso il 39esimo livello Benissimo così Benissimo così Dovere o piacere è andata Ottimo, ottimo Ottimo così Bene Bene Che fai, non ci credo in più Magnus Ah, eccoti Dica Vediamo un po' va Dove sta Percorso Percorso Bonus a tempo Lì nero Si è difficile Porta a termine Una gara sprint Punto a punto Chi taglia il primo traguardo Vince Vabbè Questa qui Ce la faremo magari un'altra volta Vediamo un po' Vediamo un po' Proviamo la gara Evasione di Eddie Va alla sesta esattamente Certo, dobbiamo fare drifting Con il drifting Sinceramente non me la cavo Tanto bene Vediamo un po' Perché tanto Se tanto mi da tanto E non passo E non vinco Le gare medie Figuriamoci quelle difficili Eccola This challenge 6 Gara 6 Bene E togliti 4200 Aio E dai Sti camion Della Hot Wheels Maledetti Eccola Il primo C'ha già 25.000 punti E che diavolo è Ah dai Stegare Evidentemente 12.600 Capirai 14.000 Taxi addobbato 17.000 Ancora quarto 20.000 20.000 No 22.000 27.000 Eh no Eh no Questa qua Poi la dovrò rifare Stegare drifting Maledette Ecco appunto Qua vengono pure I si camioncini Maledetti 38.000 38.000 Liscio 41.000 E toglisi E toglisi DJ Se un bug 44.000 47.000 48.000 48.000 51.000 Eh no Nemmeno con 51.000 punti Niente da fare Niente da fare Questa poi ce la faremo Più in là Con calma 11.863 punti Di reputazione Buoni Per il livello Vediamo di arrivare Almeno al 39.000 Di che Beh magari Un'altra volta Allora Vediamo un po' Questa è rimasta Rizzata Con l'angolazione Estrema Che potente più alto Vince È difficile Pure questo qui Tocca Derapare Come non mai E a me Sinceramente Il drifting Non è che Mi piaccia Chissà quanto Uno per tutti Poi da dare una gara Spendita Punto a punto Chi type Per primo Di aggardo Vince Ma questa L'ho già fatta Non mi ricordo Io Tutte se stelline Quassù Questo qui Giro di vite Ma quello è Tutti per uno Tutti per uno Che si chiama Che è uguale Tutti per uno E uno Per tutti Ma gara sprint Proviamola un po' Non so se ce l'ho fatto Questo uno per tutti Bah Proviamola un po' Tanto un po' Per spezzare In qualche modo Tutte queste gare Di drifting Se fai troppo casino Colpisce duro Gareggia Fino all'arrivo Vediamo un po' Di che pasta Sono fatti questi Quanti siamo? Oh Eto 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 Vieni qua Dai Oh Così Porca miseria Eh sì Dai Pure il palo Pure il pilone Porca miseria Vediamo un po' Frena Eh sì Tutti Eccala Tocca falcita Qua eh Vabbè Questo uno per tutti Abbiamo un'area di terzi Un minuto e trentatré Tremila soldi Vediamo un po' Se almeno siamo arrivati Al trentanovesimo livello Così cerchiamo un po' Di Eccolo qua Benissimo così Trentanovesimo livello 21.489 punti Riputazione Allora Facciamo una bella cosa Andiamoci nel garage Vediamo un po' Cosa si può fare Per questa macchina Vediamo un po' Di migliorarla Sempre di più Impara Tra il giusto Gli attacchi a tempo Allora Vediamo un po' Di migliorare Il migliorabile No vabbè Il cofano Se cose così Non mi interessa Allora Ok Allora Vediamo un po' Differenziale Allora Io ricevevo La nitro Ecco Allunghiamo La durata Della nitro Allunghiamo un po' Per risoluzione Performance Vediamo un po' Se ci regalan Qualcosina Barantiro Lio Niente Freni a mano Niente Freni Niente Pneumatici Cambia una ceppa Differenziale Niente Sospensioni Niente Impianto a nitro Vabbè Quello già ce l'abbiamo Frizione Eh Livello 49 Sistema di scarico 44 Eh Collettore di scarico Eh Sbloccabile Con le missioni di EMI Testata Sbloccabile Albero a camme Sbloccabile Blocco motore Livello 45 Centralina Livello 46 Bene Avviamento Va bene così Impianto elettrico Livello 41 Induzione Eh L'induzione Si Ci aumenterebbe Di un livello Di un cavallo Solamente Di un cavallo Però Aumenterebbe I secondi Da 0 a 100 No vabbè Lasciamolo così Sistema di alimentazione Livello 48 Ma va bene Non si può cambiare Una mazza Va Allora Vediamo un po' qua Allora Magnus E' amico Comincia Diamo un po' Che dice Ehi amico Cominci ad andare Davvero alla grande Ti va di provare Un'altra corsa E magari alzare La posta in gioco Ci vediamo Vabbè Proviamoci Va Linee rosse E poi Vediamo un po' Come va E poi magari Ci salutiamo Vediamo un po' Attento Lasceranno Le sfide quotidiane Ogni giorno Potenzia Quella rap Eh Ci tento Più di fare gare in più Linee rosse Vince gara sprint Contro Magnus Ehi amico Sono gasatissimo Eh Attento al traffico E non esagerare Ci vediamo All'arrivo Aio Sta curva Maledetta Capirai Magnus E' già subiodato Porca miseria E' colla giù Dai Dai Cerchiamo di riprenderlo Eccolo Eccolo qua Dai Vai Così E toy di Magnus Occhiala pula Magnus Mamma mia Che botta Magnus No No Cavo Siamo troppo infognati Maledizione Mancano ancora 5 Checkpoint Magnus Si sta dando Porca miseria Che botto Eh vabbè Magnus E' andato E vabbè Un minuto e 58 Però mille punti di reputazione Ce la siamo lottata Vediamo un po' Prima di missi Rispetto Chilometri di divertimento Vediamo un po' Dica Esatto Va bene Vediamo un po' Di Ritentare Va Ritentiamo Forse questa volta Ce la possiamo fare Vediamo un po' Tocca stare Solamente un po' Attente alle curve Vince Graspin contro Magnus Linee rosse Dai 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 Io pure Dai Dai così C'ho la macchina sfondata Però va bene Allora prima lì C'eravamo impuntati Porca miseria Adesso ci siamo impuntati là Bene Inizia bene sta cosa Vediamo un po' Di recuperare Va Come al solito Quasi Vai così E togli Ti pula Cavolo Eh sì Mortacci vostri Però Eh sempre solo a me Ma Magnus Che corre più di me No eh Mortacci vostra Capura Capura Grazie a tutti. Vieni qua Magnus. Sì, iata, iata. Primo. Un minuto e cinquantacinque. Dodicimila e cinquocento punti. Bene così, bene così. Iata, iata. Come un razzo. Ottimo così, ottimo così. 42.742 punti. Bene, bene, bene. Chiamaci, va? Vediamo un po' che ci dici, va? Mi chiami? Non mi chiami? Ah, ecco Spike. Vieni a Longhorn. Dobbiamo parlare. E va bene, dai. Mazza quanto sei minaccioso. E che dè? Andiamo a Longhorn, ma? Dove caspita sta, Longhorn? Il Longhorn, eccolo qua. Andiamo qua e vediamo un po'. Abbiamo battuto Magnus per ben due volte. Bene, benissimo, così. Entriamo, va? Parcheggiamola bene, sta macchina. Parcheggiamola bene. Bene. Vediamo un po'. Bah. Io, amico, tutto ok? Allora qual'era? Era la 277, eh? Magari non sai neanche che la preferita di Magnus, in assoluto. Ehi, che sta succedendo? Magnus ha offerto a questo tipo una corsa su una delle sue 911. Come l'ha avuto il tuo numero, eh? Ehi, è vero. Che cosa hai fatto? Gliel'ho dato io. Rilassati. Rilassarmi. Rilassarmi. Era la mia corsa. Me la meritavo. Spike, ora basta. Calma, Spike. Andiamo. E calma, di su. Eh, chiede una gama Mila, anziché una birretta. Non voglio il suo aiuto. O il caffè. Allora il tipo nuovo si prende tutto il merito, vero? Vieni, vieni qui, vieni qui, smettila. Stai scherzando? È esattamente quello che tu volevi. Magnus ti sta osservando. Uno di noi viene notato, tutti veniamo notati. Siamo un pacchetto unico. Ecco. Bene, esatto. Ok. Ok. Siamo un pacco della DHL, Brent. Ah, sto scherzando, eh. Scusami, amico. L'avevo desiderato di brutto, capisci? Pace. Ora andiamo là fuori e balliamo. Sì. A quanto pare è un grande talento. Vabbè, dai, ce la caviamo adesso. Insomma, grandi talenti. Abbiamo battuto Magnus per ben due volte. Vediamo un po' l'aggiornamento della mappa. Vediamo un po' cosa ci dà. Vediamo un po'. A parte che navigano un bel po' di persone. Sto notando nel... In questo gioco. Questo, chi caspita, è? Vai. E... Allora, ci abbiamo ancora rimasterizzato difficile con Emy. Poi ancora l'e... Evasione difficile con... Le gare di Eddie. E... Va bene, dai. Salutiamoci qui. Va bene, allora, è andata benissimo. Così abbiamo battuto per ben due volte Magnus. Alla grande, alla grandissima. Riceviamo, abbiamo anche ricevuto i complimenti. Ma, insomma, va bene così. Bene, dal vostro Giappo Gamer è tutto. Sayonara ne e al prossimo video. Ciao. 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 Ciao.